Chi? Chi è lui? Che fa? Quindi che è? Gli vuoi bene? Gli vuoi bene? La seconda volta che arcarca e mangia Ma hai mangiato un pezzo di pesce pareva uno squalo pareva Ma forse l'epet di co***e Guarda guarda, dai giù, e via smanicato il salmone Dentiera che si Charge Vuoi guardare? Ma il 26 io non li guardo mai No manco un po', guarda le donne Ma... 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 È vero che guarda il 26? Sì, perché il 26 facevano una volta, ma non c'è chiudere. Mannaggia i croci di strada! Ma queste che ha qui sono? Chi dai con questo posto? No! 10 e mezzo. È l'ora del zzzzz! Vai via, sei sempre nominata per sola, smettela! Smettela di qui, smettela! Ah, va via, va via! Scusi! Va via, siamo al maresciallo, eh? Tanto siamo, tu che ti credi? Che scherzo? Ma che gli dici? Gli dico che stanno tronzo che stanno tronzo. Anche l'al maresciallo! Oh no, compramelo vino di Pasqua! Mi compri lo vino di Pasqua o no? Aia! Mi compri lo vino di Pasqua? Aia! Mi compri lo vino di Pasqua? Aia! Aia, che c'entra? Mamma mia! Qui ha un bastone tra lì! Aia! 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 Dai non ti denghi! Ma... ma dopo il tapinarolo che ti piacerebbe avere io voglio avere leccadito come il tuo che è leccadito scusa il cellulare l'iphone l'iphone fai tu con l'iphone fammi capire ci faccio le videochiamate quando tu non ci sei adesso ci proviamo